Tentato furto in un'azienda Orafa che si trova nella zona industriale di via Calamandrei è successo questa notte alle 3. È una banda indubbiamente organizzata quella che ha tentato il furto alla Oro Catene di via Baracca ad Arezzo. Prima di arrivare si sono preoccupati di tagliare i cavi dell'illuminazione pubblica in tutta la zona e non si sa come anche gli impianti di videosorveglianza delle aziende e delle abitazioni vicine non hanno registrato alcune immagini dalla mezzanotte alle 7 del mattino. Noi non si è sentito niente, ci ha chiamato stamattina un operaio che era bloccata la strada mi sono affacciato alla finestra e ho visto tutto questo lavoro e ho detto che è successo pensavo addirittura che c'erano i pompieri che avessero preso fuoco qualche fabbrica poi mi hanno chiesto la registrazione delle telecamere perché abbiamo diverse telecamere qui sono state interrotte da mezzanotte fino alle 7.15 stamattina. Quindi i malviventi hanno interrotto il vostro sistema? Non si sa come hanno fatto però dice possibile. Ma hanno proprio interrotto la registrazione delle telecamere perché noi ci sarà un registratore che registra la notte tutto quello che succede qui è stato interrotto proprio tramite come si dice tipo nacare che entra dentro è interrotto da mezzanotte precisa fino a stamattina alle 7.15. Hanno poi posizionato un furgone di traverso per impedire l'accesso alla strada spargendo chiodi sull'asfalto. All'8 quando è entrato io ho visto che è stato tutto bloccato tutto bloccato poi anche strada bloccata non posso entrare in fabbrica. Secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni in tre si sarebbero introdotti all'interno dell'azienda incappucciati e armati di bombole di acetilene probabilmente dovevano servire a far saltare in aria la cassaforte. È scattato l'allarme però e a quel punto i ladri si sono dati alla fuga. Potete dire qualcosa di quello che è successo? No, mi piace. No, stamani guarda siamo arrivati che c'era un furgone in mezzo alla strada con la polizia e niente non ci hanno fatto passare quindi a piedi abbiamo raggiunto il lavoro. Sul posto è arrivata la vigilanza, la polizia di Stato e i vigili del fuoco.